Cosa fare dopo la laurea? Quali sbocchi professionali prevede il mio percorso universitario? Come espandere il proprio network professionale? Come ricercare nuove opportunità di business? Come selezionare il candidato ideale da assumere? Da questi interrogativi nasce Career Coach, una nuova community web-based con lo scopo di creare un universo di relazioni tra i vari attori che popolano la piattaforma. Sei uno studente o un professionista? Crea il tuo profilo come player o come coach. Instaura rapporti one-to-one con giovani professionisti. Entra in contatto con centinaia di manager per espandere il tuo network. Ottieni un valido supporto per le tue scelte accademiche e professionali. Ricerca nuove opportunità di business. E le aziende? Career Coach offre l'opportunità di partecipare attivamente alla vita della community, pubblicizzando i propri servizi e incrementando la brand awareness. Con Career Coach è possibile sviluppare progetti relativi alla talent acquisition, riducendo così i tempi di incontro nel processo di ricerca e selezione di un candidato. Un po' come se fosse un continuo Career Day. Cosa aspetti? Vieni a conoscere gli altri servizi offerti. Entra anche tu a far parte della community.